Voi guardate nella camera e salutate quel registro da video, va bene? Quindi quando la vedete girata al valdo vostro voi la salutate, facciamo due o tre giri e poi stoppiamo. Vi dico io quando siamo pronti... Va bene dove siete siete, vi prendo un'altra. Mi attimo papà, stai a passio. Va bene anche lì, ti prendo. Vai lì, va bene anche lì, provete l'onda. Attenta che tagli, no, 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 qua no per te tagli, viene il sacco. Pronti? Vai! Via, salutate! Andate, salutate! Grazie! Ciao, ciao! Uno, due, tre... Va bene così... Frailo! Sì, grazie! Siffra!